Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Zabbione03 Ragazzi, oggi siamo qui finalmente con un nuovo video sul mio canale Ragazzi, oggi siamo qui con il video di Clash Royale Lo riporto dopo un sacco di tempo E niente Allora Ragazzi Mo' vi faccio vedere Allora Vediamo un attimo perché, ok Vedete di fare anche questo così Certo, l'ho lanciato malissimo Il mini... No Così, il mini pecca Sì, scusate Il mini pecca Ho notato che dall'ultimo aggiornamento Perché, raga, prima non era così Ve lo assicuro L'hanno potenziato in una maniera mostruosa Fa un botto di danno Prima, sì, faceva un po' di danno Ma non era chissà che cosa Però, raga, vi assicuro fa un danno mostruoso Ve lo posso assicurare Cioè, toglie più metà vita Toglie Che prima non toglieva così tanto Giuro Allora Ci andiamo in... Anche con questo Ok, molto bene E... andiamo Ci andiamo con il mini pecca Guardate quanto l'hanno fa Guardate Cioè, è mostruosa, eh Come cosa E... questo video Poi lo vedrete anche editato Perché ho capito come editare Dal cellulare E... lo vedrete però domani Non... perché oggi... Non lo so se lo metto oggi O se ve lo metto direttamente domani Ve lo faccio uscire Non lo so Vediamo Poi staremo a vedere Però... credo più domani Credo Quindi... tutto qua Non è qua Ho sbagliato Possiamo... oh no No, no, no Non ho sbagliato, raga A posto Perché temevo di aver sbagliato Andando a fa... Così Andremo a... A essere in vantaggio noi Questo... guardate Questo avversario È molto bravo Perché... Sta cercando di impedirvi In tutti i modi Di andare avanti Quindi... Vi blocca Su tutto Vi blocca Ok... Ci andremo a mettere questo Ci andiamo a mettere questo qui Con questa mano In modo qua Ci andiamo a mettere Il gigante Royal Che pure questo Stavolta è stato Modificato Cioè l'ho portato A livello 5 Madonna, raga Ce lo siamo portati a casa? Forse sì Forse ce lo siamo portati a casa Sì, sì, raga Ce lo siamo portati a casa Però mamma mia È complicatissimo È stato Dai, per questo è stato Molto, molto bravo Quindi... Insomma Ok Quanti minuti sto Di registrazione, raga? Aspettate, vabbè Non doverlo vedere, raga Aspettate, eh Vabbè A 4 minuti, vabbè E... Ragazzi Allora Che vuol dire Questo video È finito Noi Ci ribecchiamo Alla prossima E... Ciao, ragazzi